Siamo al volley con Rana Marona che si prepara a scendere in campo contro Perugia a due giorni della sfida del Palabarton. In programma domenica alle 16 è intervenuto in conferenza stampa. Coach Stoic, ve lo sentiamo. La partita contro Perugia rappresenta per noi una partita abbastanza facile, in senso che la qualità di questa squadra è indiscutibile, loro in battuta di squadra forse hanno la miglior battuta in questo campionato, hanno tanti battitori forti che impediscano altre squadre da solito di giocare bene, in attacco soprattutto in cambio palla hanno un 45% di efficienza, in recizione sulla battuta Flock sono molto molto forti, qual è il salto? Lo stesso sono forse, adesso non li ho confrontati proprio nelle ultime partite, ma una delle squadre più forti in recizione. Partendo di questi fondamentali è molto difficile giocare contro Perugia, loro hanno perso secondo me alcune partite questa stagione solo quando non erano concentrati, e il loro gioco di squadra non corrispondeva alle possibilità individuali che hanno. Ma giocatori con esperienze internazionali come Semegniuk, Gianelli, Solè, Colacci, Plotnitsky, Flavio, sono con un bagaglio tecnico ma anche con un'esperienza così importante, per non dimenticare assolutamente il russo, scusate, che possono in maniera individuale risolvere tante situazioni. Per questo ho detto che per noi la partita è facile, perché noi dobbiamo giocare liberi di testa a fare la nostra miglior pallavolo, ovviamente impegnandosi tanto in campo per cercare di tenerli il più lungo possibile in campo e si presenta un'opportunità, che lo sport è bello per quello, perché a volte succede una cosa anche strana, a sapere approfittare tutte le possibilità. scatta la fase ad orologio invece per quanto riguarda la Tezenis, siamo chiaramente al basso.